Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio 2024. L'appeso, amici della bilancia. Periodo di riflessione, periodo di introspezione, periodo che vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista. Quando c'è l'appeso c'è sempre una sorta di accettazione, di anche rassegnazione in certi casi, ok? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. E per capire come unire questi tre oroscopi, ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi del 2024 e alle previsioni del 2024. Bene ragazzi, la frase iniziale diventa sempre più lunga. Allora abbiamo un cavaliere di spade, la carta della giustizia, un 9 di spade, un fante di coppe, sette di pentacoli, asso di spade e sei di bastoni. Allora, devo dire che è un periodo, partendo soprattutto con questo cavaliere di spade, dove sento parecchia determinazione. Ora il cavaliere potrebbe rappresentare una persona o uno stato d'animo, uno stato d'essere. Lo andiamo poi anche a vedere meglio con i militari dopo. Però abbiamo anche questa giustizia che mi fa ben sperare. È la vostra carta e vi dico che è come se si avvicinasse un riequilibrio. Per qualcuno si tratta di un contratto, di un accordo. Per qualcun altro questa giustizia potrebbe rappresentare il risolversi di alcune questioni burocratiche, la firma di un contratto, magari di un finanziamento, qualche cosa che si regolarizza, si firma, si scrive. Però abbiamo anche questo 9 di spade che mi dice che qualche preoccupazione c'è. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Allora, ok. 5 di bastoni e 7 di pentacoli che avete già qui. Come se ci fosse una certa fretta o ci fosse stata una certa fretta o per qualcuno è stata anche una sorta di accelerazione energetica nell'ultimo periodo che vi ha fatto uscire da una situazione, un po' di stallo, un po' di stasi. Probabilmente questo 7 di pentacoli è collegato alla carta dell'appeso, al vedere le cose da un altro punto di vista, al prendersi del tempo magari per riflettere su una determinata situazione o questione. Andiamo a vedere la carta della giustizia. Cavaliere di coppe e fante di bastoni. Allora, ho come la sensazione, se fosse una situazione di lavoro, potrebbe essere qualcuno che sta un po' friggendo o diciamo si è come accumulata una certa frenesia di arrivare a un risultato, di arrivare a una soluzione. Diciamo che con questo cavaliere di coppe la giustizia potrebbe essere proprio un'offerta che vi fanno, una proposta di un contratto, una proposta di accordo, un'offerta. Non sento tanto la casa, eh? Quindi più o è lavoro o è qualcosa di burocratico, è come se vi facessero un'offerta. Offerta di un contratto. Però ragazzi, c'è un fante di bastoni al contrario, ho idea che la cosa non sia così tanto in equilibrio come appare. Andiamo a vedere il 9 di spade, perché se avete certe paure magari sono anche fondate. Matto e ruoto della fortuna. Allora, il periodo dell'appeso vi serve per fare mente locale, per cercare di vedere le cose dall'altro punto di vista, per cercare di capire perché non vi fidate di questa persona in particolare o della situazione in particolare. Io ho come la sensazione che qualcuno qui abbia paura di cascare dalla padella alla brace, ho un'idea di questo genere. e vi devo dire che per qualcuno c'è anche una sorta di paura a iniziare un nuovo tipo di equilibrio, un nuovo tipo di dinamica. Andiamo a vedere il fante di coppe. Il mondo e il 10 di coppe. Allora, per qualcuno potrebbe riguardare una situazione dove ci sono dei figli, una situazione legata a dei figli, o alla ricerca in sé del figlio, o è come se ci fosse una certa paura nell'intraprendere questo tipo di accordo perché si vuole tutelare il figlio o i figli. e quindi c'è questa forte fase di riflessione. Diversamente, ragazzi, sento che se fosse una proposta di convivenza, vi faccio un'ipotesi, è come se non vi convincesse del tutto, è come se la persona non vi fidasse, aveste paura, cioè c'è qualche cosa che è come se non tornasse qui. vi dico che ci sono parecchie idee con il fante di coppe, ci sono parecchie idee geniali, parecchie idee di amore, parecchie... mi viene da dire anche buone intenzioni per creare un qualche cosa di costruttivo. Però è come se ci fosse... allora, per qualcuno può essere la famiglia che blocca, che magari vi dice no, guarda, non è una persona per te, cambia compagno o compagna. da un lato potrebbe essere quello che blocca, quello che un po' vi fa venire dei dubbi, diciamo, più che blocca, il fatto che magari non volete avere figli, c'è qualche tema legato ai figli, o come la sensazione che qualcuno qui o creda di non volerne, o creda di non essere abbastanza brava, o bravo come genitore, cose di questo genere. come della sette di pentacoli. 4 di pentacoli, 8 di pentacoli e asso di pentacoli. Tanti denari, devo dire. Allora, è un po' come se qualcuno avesse una sorta di attaccamento al proprio tipo di realtà ed è da qui che mi viene, cioè che mi spiego, diciamo, questo nome di spade, questa poca fiducia nel futuro, questa paura di ricadere in certe dinamiche che magari non piacciono tanto. Non so, è come se ci fosse una proposta un po' veloce o una conoscenza o un qualche cosa di un po' veloce qui che in qualche modo deve essere regolarizzato in modo equilibrato, ma qui la paura nel trovare questo equilibrio, nell'accettare questo accordo è o un tema legato ai figli o un tema legato alla realtà che già si sta vivendo, cioè per la serie ma io sto tanto bene così non lo so se voglio figli, ma io sto tanto bene così non lo so se voglio trasferirmi o iniziare una convivenza. Perché qui, perché vi dico così, perché qui c'è un 4 di pentacoli che è una carta di attaccamento e tutte e tre in realtà sono, anche questo è un 7 di pentacoli, quindi qui c'è tanta materialità, tanta concretezza, come la sensazione che sia un po' il modo di capire o di far fronte a queste paure, cioè che cosa ho di concreto, come posso, perché questo è un asso di pentacoli, come posso mettere, piantare un seme che possa germogliare bene e qui abbiamo l'asso di spade che è la comunicazione, quindi attraverso la comunicazione, attraverso il proprio ordine mentale, perché comunque l'asso di spade è una carta che taglia i pensieri, li mette in ordine, è come se iniziassi a farvi una scaletta di priorità. Andiamo a vederlo. Fante di pentacoli e nove di bastoni. Sì, questa zona la sento un po' come un patti chiari e amicizia lunga, i patti, quindi creiamo questa relazione romantica, lavorativa, di amicizia, collaborativa, quello che per voi è, in un modo, mi viene da dire cristallino e onesto, e con questo fante di pentacoli, un po' come il impariamo a conoscerci, difendiamo ognuno dei due le proprie zone di comfort, diciamo la zona dove ci si sente al sicuro e poi arriva il sedio e i bastoni, arriva il riconoscimento, arriva quello che è la coronazione, vedete che stanno mettendo una corona a questa fanciulla. Andiamo a vederlo. Perché è un po' iniziare con nuove regole, stando molto attenti a rispettare, mettere dei semi. Guardate, può anche essere veramente un nuovo contratto di tipo lavorativo, anzi, se siete senza lavoro, adesso poi le previsioni sul lavoro e sui single le pubblicherò più avanti e le potete comunque integrare con queste letture. Però vi dico che potrebbe fortemente arrivare un contratto quando c'è la giustizia a lungo termine. Può essere un po' destabilizzante, magari il cambio, però vi dico, qui si tratta di mettere le cose in chiaro, di difendere la vostra zona di comfort e di imparare passo dopo passo, giorno dopo giorno, ad avere a che fare con questa nuova realtà fondamentalmente. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 3 di bastoni e 9 di pentacoli, quindi di nuovo una carta di pentacoli. Vi dico, sta prendendo molto una piega di tipo concreto la lettura, quindi lavorativa o sì, cose dove c'è la materia perché avete tanti, tanti denari, devo dire. Però ragazzi, vedo progetti nuovi, vedo espansione, può anche essere che qualcuno finalmente decida di mettersi in proprio o che trovi, diciamo, un certo tipo di stabilità tra quello che è il lavoro dipendente e la propria autonomia nello svolgere il lavoro. Il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza, forte autonomia, di amor proprio, di ricchezza, abbondanza, sicurezza in sé, forza caratteriale. Quindi, la vedo terminare molto bene, l'unica cosa è questo 9 di spade che secondo me arriva da questo 5 di bastoni che sono un po' i pensieri che vi state trascinando. Vedrete che non vi verrà male questo momento di appeso perché, appunto, vedendo le cose da un altro punto di vista, cambiando il tipo di realtà, devo dire, cercate di innamorarvi, mi viene da dirvi con questo fante di coppe, un po' della vita, no? Delle nuove occasioni provate a anche viaggiare con la fantasia se vi aiuta ad alzare le vibrazioni su tutto il bello che potrebbe entrare da questa nuova situazione. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Rinascita che è un 10 di spade. stress, il matto che avevate già prima è abbondanza, bellissime. Rinascita. Quindi si tratta di rompere gli schemi di comportamento. L'appeso vi serve per identificare gli schemi di comportamenti manzani, poi bisogna tagliarli, ok? E uno di questi potrebbe essere lo stress. Allora, vi devo dire, qui ho come un riferimento a qualcuno che non si fida o della situazione o di questo cavaliere di spade della persona, Magari non vi fidate di voi stessi anche, può anche essere così. E tutto questo sentimento di sfiducia sta creando dello stress. Faccio bene a fidarmi, non mi fido. Perché? Perché chiaramente quando uno non si fida tende a controllare e il controllo continua, a parte che è parte dell'energia del diavolo, però crea stress. E invece qui è un po' come se vi dice solo buttatevi con fiducia in quello che è l'abbondanza. in quello che è la prosperità, in quello che è tutto quello che di bello avete dentro da dare e tutto quello che è la vita ha da darvi. È un'abbondanza nel saper gestire tutto, è un re di denari e quindi fa riferimento a tutta questa abbondanza di denari e di capacità, cioè di quello che voi concretamente siete in grado di fare per creare la vostra realtà. andiamo a vedere ancora un cohan, vediamo che cosa vi vogliono dire. Un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia. bevete un 4 di pentacoli qua, guardate. È molto bello in questa rappresentazione, sento molto questo cohan. È un po' come per dire che anche diciamo quello che viene considerato di scarto o comunque quello che non serve può essere un tesoro, ok? mentre un tesoro può essere un'erbaccia. Vi faccio un esempio estremo per farvi capire che cosa intende. Se dovessimo affrontare un non lo so un momento di vita particolare dove sulla terra scarseggia il cibo ma c'è abbondanza di monete, di soldi l'erbaccia che potrebbe essere quello che viene diciamo definito roba di poco conto può diventare un tesoro mentre quello che è il tesoro cioè il soldo può diventare un'erbaccia cioè nel senso può arrivare a non servire mentre invece le cose che prima venivano scartate possono diventare risorse vi faccio l'esempio delle energie rinnovabili l'olio bruciato l'olio usato si usa anche per fare sapone uno degli utilizzi che io so di cui io sono a conoscenza va bene fatemi sapere come vi risuona questa carta ragazzi questo è quello che avevo per voi spero che appunto comunque la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere con un commento se avete piacere potete mettere like iscrivervi o condividere il video se invece volete iniziare un percorso di crescita con me potete sempre scrivermi via mail oppure abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao